Bologna favorito contro la pronostico e possibili marcatori. Il Bologna per incrementare il margine di vantaggio sul terzo ultimo posto, la Cremonese per evitare di chiudere il girone d'andata con zero successi. Al Dallara si gioca per vincere, il pronostico sulla carta sorride ai rosso blu di Tiago Motta ma l'impresa in Coppa Italia contro il Napoli dà fiducia ai grigiorossi di Ballardini. Bologna Cremonese, fai il tuo pronostico a Fena Giansegna ancora? La quota è molto alta Tiago Motta deve fare a meno di Arnautovi che Sansone. Assenze pesanti che lasciano qualche interrogativo. La prova troppo rinunciataria in Coppa Italia contro la Lazio, zero tiri in porta per i Felsinei, e un altro spiraglio per le speranze lombarde di fare punti al Dallarao. Quanto meno, trovare il gol. Una statistica ad uso e consumo dei curiosi. La somma gol 3 con 8 uscite totali risulta la preferita dal Bologna ma non dalla Cremonese che l'ha collezionata solo una volta in 18 giornate di campionato. Inoltre, in casa e Rossoblu hanno sempre centrato l'Under 3,5. Dalle statistiche alle quote. Sulle lavagne dei Bocchi e il Bologna è in netto vantaggio, per Kplay e Begamestarlo un finale paga 1. 93, la X vale 3,38 mentre il 2 della Cremo è offerto a 4,08. Queste invece le valutazioni dei concessionari betteri e gold bet. Segno un bancato a 1,93 pareggio a 3,25 e segno 2 a 4,50. La Cremonese dovrebbe andare a segno ma senza esagerare. Piace il multigol ospite 1-2 tenendo presenti De Cerse e Afenagian, l'eroe nella notte del Maradona, come possibili marcatori. Il primo si gioca a 4, ancora più alta e dunque conveniente la quota prevista per l'ex Roma che paga 5,50.